Primo firmatario il Presidente Usuelli che ha facoltà di illustrarla, prego. Sì, grazie Assessore. Assessore, Assessore. Grazie Assessore, questa interrogazione attiene in fin dei conti al rapporto tra il potere legislativo ed il potere esecutivo. Già sono preponderanti le iniziative che la Giunta, questo avviene anche nel Governo di Roma, propugna da sé sola e poi mette in atto quando vi è una proclamazione del Parlamento, cioè del potere legislativo, l'esecutivo dovrebbe appunto limitarsi ad eseguire. Il tema che ripropongo per l'ennesima volta in quest'Aula è l'odissea del rapporto tra Regione e le unità di midollo spinali unipolari. Ricordo quella giornata che immagino ricorderà bene anche lei, il 4 maggio 2020, in cui all'unanimità passò tra le altre cose, altre non passarono quel giorno. Una mia mozione che invitava la Giunta regionale a riconoscere il modello di unità spinale all'interno dei tre presidi ospedalieri lombardi, gli unici dove esistono. Mi guarda Sondalo e per certi versi possiamo dire anche Bergamo Mozzo, che è funzionalmente solo unipolare. E ad assumere e trasferire infermieri e operatori sanitari in numero sufficiente ad adeguare i posti letto rispetto ai bisogni dei cittadini. Addirittura chiedevamo anche in queste unità in cui in maniera così interessante convivono più specialità per una medicina davvero basata sui bisogni dell'individuo che esse potessero essere luogo di formazione per avere un numero maggiore di specializzanti in questo senso. E rilevo che pochi giorni dopo l'approvazione di quella mozione, che erano preceduti da almeno due anni di silenzio assordante della Commissione Sanità su ciò che avveniva rispetto a questo tema, vi è stata sì un'accelerazione da parte sia di consiglieri commissari della Lega che di Regione Lombardia e del suo assessorato, ma un'accelerazione in senso contrario e quindi abbiamo assistito a un progressivo smantellamento ulteriore dell'unità spinale di Sondalo. Molte specialità sono state trasferite a Sondrio, una parte significativa del personale è stata trasferita a Sondrio da Sondalo. Attualmente risultano trasferite l'urologia, il DEA, la chirurgia toracica, la neurochirurgia e la neurologia operano principalmente a Sondrio e i pochi medici rimasti a Sondalo devono coprire le guardie mediche a Sondrio. Io non credo che nonostante quella mozione fosse una mozione con l'invita e non con l'impegna, ma essendo stata approvata all'unanimità, che la Giunta possa, il potere esecutivo di questa Regione possa arrogarsi il diritto di accelerare in senso opposto a quello che quell'atto di indirizzo non solo chiedeva, ma con il voto all'unanimità otteneva. Su questo tema, e cioè sulla tutela dei pazienti midullolesi, e non per farne una ragione campanellistica territoriale, noi con ostinazione continueremo a fare follow-up del lavoro vostro. Grazie. Grazie al Presidente Usuelli. Per la Giunta risponde l'Assessore Gallera. Prego. Bene, grazie. Il nostro rispetto delle indicazioni del Consiglio è assoluto. Non a caso, a differenza delle prime sue riflessioni, nella conclusione del suo intervento, si evidenzia come c'era un'invita e quindi il Consiglio invitava la Giunta a lavorare e a farsi carico di una tematica come quella dei pazienti mielolesi, che è una delle grandi priorità su cui stiamo lavorando e su cui c'è un'attenzione assoluta. Il tema che lei pone si inserisce in un ragionamento molto più ampio che è partito tempo fa, come lei ben sa, Consigliere Usuelli, o comunque forse non essendo di quel territorio potrebbe non esserne così informato, nel senso che le tematiche del ridisegno della sanità di montagna è un tema su cui abbiamo lavorato da tanto tempo. L'abbiamo fatto in questi anni nella logica di preservare un equilibrio tra le esigenze e le difficoltà, sia sul riperimento del personale, sia sulla fatica a rendere attrattivi e rispondenti alle normative nazionali alcuni presidi. Questo ci ha portato a ragionare su un disegno ampio e complessivo che ha portato a predisporre un progetto che è stato dato nelle mani di un'entità terza, cioè il Politecnico di Milano, che ha fatto un progetto ampio, di grande prospettiva, ma siccome le indicazioni che possono arrivare anche da esperti, noi riteniamo debbano essere poi oggetto di approfondimento sui territori. Abbiamo oggi celebrato una Lombardia che ha fatto di un'autonomia vera un modello che lo deve continuare a fare, quindi anche in un rapporto con gli enti locali, con i territori, con l'ascolto dei cittadini. Noi, da quell'ottobre che ha visto il sottoscritto, insieme peraltro all'assessore al territorio e alla montagna, presentare pubblicamente quel progetto, è iniziato un lungo percorso di ascolto e di approfondimento con gli amministratori locali, che ha portato loro a anche dotarsi di esperti per valutare, approfondire, cercare di dare dei suggerimenti di miglioramento di quello che era quel progetto. un percorso che è stato leggermente rallentato dal Covid, ma che si sta concludendo, nel senso che abbiamo, come ormai notizia di dominio comune, convocato, non solo ascoltato tutti gli interlocutori, io e lo stesso Presidente Fontana, quindi segno del grande rispetto e attenzione che abbiamo per il lavoro del territorio, ma anche convocato una riunione per alla fine concludere questi lavori. Quindi le sue riflessioni si collocano all'interno di un ragionamento molto più ampio, così come non risponde assolutamente a verità che dal maggio in poi ci sia stata un'accelerazione nel depauperare quel presidio ospedaliero, anzi il contrario. Nell'azienda sociosanitaria territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario è accreditato un'unità operativa complessa di nero riabilitazione e unità spinale, articolato su due macroattività di degenza. Reparto di degenza e riabilitazione specialistica, unità spinale, con 26 posti letto accreditati, di cui 20 attivi, collocata al terzo piano del quinto padiglione. Un reparto di degenza e riabilitazione specialistica neurologica, con 22 posti letto accreditati, di cui 19 attivi, collocata al primo piano del quinto padiglione. La unità spinale offre attività di degenza, riabilitazione in palestra attrezzata e dedicata, idroterapia in vasca e può contare sulle disponibilità di un appartamento domotico, atto a facilitare il rientro a domicilio e sala internet. Sono previste tutte le figure professionali mediche e delle professioni sanitarie, di urologia, neurofisiopatologia, pneumologia, chirurgia plastica, neurochirurgia e di diagnosi delle immagini. In periodo Covid, l'adegenza dei reparti di riabilitazione di unità spinale neurologico-ortopedica è stata garantita con il proseguimento di cura per i pazienti già presenti, per un totale complessivo di 20 posti letto, con temporanea sospensione dei ricoveri programmati. Come da normativa regionale è stata sospesa anche l'attività ambulatoriale per esterni, quindi tutto questo rientra o è partito dall'emergenza Covid. Grazie alla riapertura in data 13 maggio 2020 di 12 posti letto di riabilitazione ortopedica ampliati a 19 in data 10 giugno, nonché alla riapertura in data odierna, cioè il 6 luglio, di 10 posti letto di neuro-riabilitazione, ognuna delle proprie sedi originali, l'unità spinale da oggi riprende il suo assetto iniziale, con 20 posti letto ubicati al terzo piano del quinto padiglione. Quindi, come vede, non c'è stata nessuna riduzione dal maggio in poi, ma anzi un incremento. Si precisa che storicamente i pazienti ricoverati in unità spinale provengono anche da tutta la regione Lombardia e dal territorio nazionale, soprattutto per esigenze riabilitative successive alla fase acuta. Il presidio ospedaliere di Sondalo è stato individuato come ospedale accettante i pazienti Covid-19 positivi a partire dal 5 marzo 2020. È stata inoltratta ad Areola richiesta di sospensione dalle ore 21 dell'8 marzo di tutta l'attività di emergenza, urgenza no Covid, centralizzando sul presidio di Sondalo. Dal 16 marzo è sospeso anche il punto nascita, pur garantendo con la presenza del personale le eventuali emergenze ostetiche che si fossero autopresentate. Il blocco operatorio del presidio di Sondalo, ubicato nel seminterrato, è stato gradualmente riconvertito in ambienti di terapia intensiva Covid-19 con l'acquisizione di letti ventilatori, monitor, pompe da infusione e quanto altro necessario per l'allestire l'unità di degenza di terapia intensiva aggiuntiva, ben 16 posti letto, per arrivare ad una dotazione complessiva di 24 posti letto di rianimazione Covid-19. È stato necessario convertire ad agenza Covid-19 anche i posti letto delle degenze chirurgiche del presidio di Sondalo, perché nel periodo di picco della pandemia il fabbisogno è stato di 220 posti letto Covid contemporaneamente occupati. Gli specialisti di chirurgia vascolare, chirurgia toracica, neurochirurgia sono stati trasferiti presso il presidio di Sondrio per garantire l'emergenza urgenza no Covid, pur mantenendo una presenza di questi specialisti su Sondalo. Con DGR 2906 dell'8 marzo l'ospedale di Niguarda viene individuato quale centro hub per le patologie da trauma, cui devono essere inviati i pazienti nell'area di competenza dell'SST della Valtellina. Successivamente con la DGR 3115 del 7 maggio, la Regione Lombardia ha autorizzato, previa acquisizione di parere di Areo, la riapertura del centro trauma zonale di neurochirurgia presso il presidio ospedaliero di Sondrio. Il trend epidemiologico ha successivamente consentito di concentrare l'attività Covid al padiglione 1, liberando i posti letto delle degenze chirurgiche del quarto padiglione, ad ora 31 posti letto. In data 3 giugno è stata riattivata l'attività chirurgica programmata per le specialità di neurochirurgia della colonna vertebrale, chirurgia generale, ortopedia e ginecologia. Per quanto ottiene l'ortopedia, la carenza di personale sia medico sia infermeristico, nonostante la pubblicazione ripetuta di avvisi per riclutare tale personale, non consente al momento un completo riavvio delle attività, garantendo solo la presenza di un medico specialista dalle 8 alle 20, 7 giorni su 7. La neurochirurgia garantisce presenza del medico dalle 8 alle 20, dal lunedì al venerdì. Per i restanti periodi attiva la pronta disponibilità. La neurochirurgia garantisce interventi programmati sulla colonna vertebrale. La prossima configurazione dell'assetto aziendale, quindi, questo è la fotografia. Abbiamo il 10 luglio questo incontro in cui riteniamo di concludere, nel rispetto delle osservazioni presentate dai sindaci e dei loro esperti, il percorso sul piano della sanità di montagna che darà e troverà la giusta vocazione per ogni presidio ospedaliero. Nel frattempo, come vede, le attività sono ripartite e non sono state assolutamente, vuol dire, non sono diminuite da maggio, ma addirittura sono incrementate. Grazie, Assessore Gallera. La parola al Presidente Uzvelli per la replica. Grazie Presidente, intanto per sottolineare che gli esperti del Politecnico, a quanto dicono i medici di quel presidio ospedaliero, con loro non hanno mai parlato e lassù non si sono mai visti, pertanto gli esperti che noi chiamiamo a fare dei piani, vengono fatti al tavolino senza considerare non solo i bisogni del territorio, ma anche i bisogni nazionali perché il caso dell'ospedale di Sondalo è di una realtà sì di montagna, ma che cerca di mantenere e di sopravvivere ad una vocazione non solo di montagna, ma anche regionale e nazionale. sono pochi i pazienti, estremamente complicati, i centri che devono gestire questi pazienti sono adeguati in numero di tre per una popolazione di 10 milioni di abitanti. su questi centri bisogna investire cercando di avere una visione di sistema di che cosa deve essere la sanità in questa regione e non occupandoci del territorio essendo territoriali e che quindi dobbiamo portare a casa la miglioria per il nostro bacino di voti. Io credo che anche in ragione delle prossime olimpiadi e paraolimpiadi la visione deve essere quella, ma in generale per un progetto di sanità di lungo respiro, di mantenere le eccellenze facilitando il lavoro degli operatori, difendendo la multidisciplinarietà all'interno di un servizio, mi sembra che questo smembramento di fatto prosegua e noi non mancheremo di far sentire le nostre considerazioni in presente e per il futuro.